Lazio ha sofferto se stessa, ha sofferto queste tante partite dove non poteva in certi momenti anche tenere questo ritmo che siamo in grado di fare. Adesso siamo un po' più pronti, sicuramente arriviamo per i derby in ottime condizioni. Il passo di oggi è molto importante sicuramente perché ci dà una piccola garanzia ottenendo ancora almeno due punti che abbiamo anche qualificazione matematica ma abbiamo adesso prossima in casa dove dobbiamo cercare già subito di sistemare anche la classifica.